Su riscatto per la Sandro Abbate Avellino, la formazione di Marcello Batista torna in Irpinia con un pugno di mosche. La Savitesta Mantua strappa la vittoria con il risultato di 5-3. Il tentativo di rimonta è stato tardivo ed il capò è frutto di una prestazione insufficiente. Una gara nella quale indubbiamente hanno pesato le assenze di Crema e soprattutto Nicolodi. La squalifica dell'Italo-Brasiliano si è avvertita e il giocatore con maggior talento all'interno del gruppo della Sandro Abbate. Batista non ha potuto contare su Bagatini fuori per un problema muscolare. Il tecnico lo ha voluto preservare in vista del derby di giovedì contro l'Evonley. Probabilmente la gara verrà rinviata. Due gli elementi positivi del gruppo Salernitano risultati positivi al tampone molecolare. Un rinvio che potrebbe giovare al gruppo Irpino. Nonostante l'impegno profuso, gli avverinesi non riescono a trovare la quadra di quest'annata agonistica decisamente discontinua. Contro Mantua non è stato tutto negativo. Di positivo c'è stata la prestazione dell'ultimo arrivato in casa Sandro Abbate, ossia Jonas Pinto Junior. Il calcettista brasiliano sta crescendo di partita in partita e sabato alcune giocate sono state davvero pregevoli. Il primo gol della partita al sesso del primo tempo è stato realizzato proprio dall'ex Acqua e Sapone. Grazie. 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 Grazie.